Abitava ad Arezzo ma era molto conosciuto anche a Castiglion Fiorentino per i suoi trascorsi lavorativi all'interno dei vali locali. Il Velvet, la foce da cui stava rientrando dopo una serata di lavoro e Mr. Bloom che aveva fondato insieme al fratello nella zona di Sant'Andrea ad Arezzo. Alessandro Casucci, 41enne, l'ennesima vittima della strada morto nella notte tra sabato e domenica proprio tra la zona La Foce e Palazzo del Pero. La sua auto è andata a sbattere contro il guardrail e successivamente contro la parete di roccia. Dell'incidente si è accorto un passante purtroppo però troppo tardi. Al momento dell'arrivo dei soccorsi per il 41enne non c'era più nulla da fare. E un altro schianto è avvenuto tra domenica e lunedì, stavolta sul raccordo autostradale lungo la rampa che conduce alla zona Pratacci. Due auto si sono scontrate e sono rimaste ferite cinque persone. Inizialmente i soccorritori hanno subito pensato all'ennesimo dramma. Per fortuna le condizioni dei feriti non sono poi risultate gravi. Sul posto 118 Polizia Municipale, Vigi del Fuoco e Carabinieri.